Usiamo questi soldi, quando verranno, per tagliare le tasse. Taglio delle tasse, taglio delle tasse, taglio delle tasse e taglio della burocrazia. Non monopattini elettrici o redditi a caso. Anche perché, ricordo, sono soldi che arriveranno, se arriveranno l'anno prossimo, sono soldi degli italiani, prestati agli italiani, che potranno essere spesi come decideranno in Europa. Quindi è un prestito un po' strano. Ti presto dei soldi ma li usi, come ti dico io. Detto questo, taglio delle tasse e taglio della burocrazia, soprattutto e soprattutto. Per quello che mi riguarda Mattarella ha sempre ragione e io mi complimenterò eventualmente con l'attuale governo quando i soldi sulla carta che ci verranno prestati, peraltro soldi nostri, l'anno prossimo si trasformeranno in taglio di tasse per le famiglie e le imprese italiane. Fino a quel momento manterrò tutto il mio scetticismo, come lo mantengo sul pagamento della Cassa Integrazione, sui soldi prestati dalle banche e sui banchi con le rotelle sotto, che saranno oggetto probabilmente di scherno in giro per il mondo.